Ben trovati, ben trovati ad un nuovo video tutorial firmato fabioambrosi.it Continua questo che è il corso introduttivo ad Adobe After Effects Se siete capitati qui per caso sappiate che questo è un corso introduttivo Quindi se siete già pratici di After Effects questo non è il corso che fa per voi Se invece siete alle prime armi siete nel posto giusto Questa lezione è una lezione un po' riepilogativa di quello che abbiamo già imparato e visto nelle lezioni precedenti Siamo già un po' avanti nel corso Quindi se siete alle prime armi e volete imparare ad utilizzare After Effects Vi consiglio di recuperare la playlist su questo canale YouTube e iniziare da capo Se invece siete già miei follower, avete già seguito le altre lezioni e siete qui Bene, questa è una lezione esercizio per fare un po' riassunto delle tecniche, delle conoscenze apprese fino a questo punto Nelle scorse lezioni abbiamo visto come creare una composizione Abbiamo visto come animare, come lavorare con la posizione, la scala, la rotazione, le forme geometriche, le maschere di livello, il testo E quest'oggi faremo un po' un recap creando un semplice sottopancia simile a quello che vedete qui davanti a voi In cui una semplice forma geometrica, una linea per la precisione, cresce e si trasforma in qualcosa di non ben definito Che poi va a svelare un semplice testo, quindi un nome e cognome, una qualifica tipico di un sottopancia Bene, www.fabioambrosi.it, quello è il sito in cui troverete anche gli articoli riassuntivi di queste lezioni Oltre all'indice degli argomenti, questo è il canale YouTube, se vi fa piacere ovviamente iscrivetevi per non perdere tutti gli altri video tutorial Anche legati a Premiere Pro, su Facebook mi trovate sulla pagina Fabio Ambrosi, venite e mettete un like e teniamoci in contatto Benissimo, cosa faremo quest'oggi? Lo abbiamo già visto, una cosa c'è da dire, aggiungeremo un nuovo concetto Ovvero parleremo dei replicatori, cosa sono i replicatori? I replicatori sono degli strumenti che utilizzati con le forme geometriche Ci permettono di, come dice la parola stessa, replicare una forma, un numero infinito, volendo, comunque finito, un numero molto grande di volte Faccio un esempio molto pratico, disegno una semplice linea, molto molto semplice Seleziono la forma geometrica appena creata, nello specifico la forma 1 appena creata Clicco sul bottoncino qui aggiungi e scelgo la voce ripetitore In inglese replicator, potete tradurlo anche come replicatore, non c'è problema, ma il nome ufficiale è ripetitore Cosa fa il ripetitore? Il ripetitore, come dicevo, ci permette di creare n copie della forma geometrica appena creata In questo caso abbiamo 16 copie Posso ovviamente aggiungere delle trasformazioni nello spazio anche di queste copie Per esempio posso, come potete vedere qui, muovere queste copie e avere delle forme appunto gemelle Alla forma geometrica appena creata, ma appunto replicate Quindi se io faccio una modifica, una qualunque modifica alla forma originale, come potete vedere La modifica viene automaticamente ereditata anche dalle istanze, dalle copie appena create Ecco, quest'oggi utilizzeremo questa tecnica per creare appunto il sottopancia Vedete che c'è una linea molto molto semplice Questa linea cresce, ruota, nel ruotare si generano ecco delle repliche Non so se si vedono, ingrandiamo Ecco qua, si generano delle repliche Queste repliche poi svelano un testo Ruotano addirittura queste repliche, vedete E generano un testo con appunto il nome e cognome desiderato Queste sono tutte repliche di un'unica linea E ci aiutano a creare questo effetto a ventaglio se volete Ok? Chiaramente non c'è una regola La regola, l'unico limite è la vostra fantasia Noi qui diamo delle idee, degli spunti Poi sta a voi una volta apprese queste tecniche ad operarle per creare quello che volete Benissimo, come nelle migliori tradizioni cancelliamo tutto e ricominciamo da capo Creiamo subito una nuova composizione, la chiamiamo Master Diamo una dimensione 1920x1080 Va benissimo la durata di 10 secondi Un sottopancia può essere così, 10 secondi Va più che bene, clicchiamo su ok e abbiamo creato la nostra prima composizione Ok? Perché prima? Perché io non voglio creare l'animazione direttamente in questa composizione Master Ma io voglio creare una seconda composizione, la chiameremo sottopancia All'interno della quale creerò l'animazione che poi inserirò all'interno di questa composizione Master È un po' come i livelli, un po' come le timeline annidate di Premiere Pro per capirci Ok? Vedrete che tra poco vi sarà tutto più chiaro Comunque dicevo, crea una seconda composizione Stessa larghezza, altezza, facciamo 200 pixel La vogliamo più piccina E noi qui dentro andremo a creare la nostra animazione Creiamo subito una linea Tenendo premuto il tasto Shift e mentre disegniamo Avremo una linea perfettamente orizzontale Allineiamola al centro della nostra composizione E iniziamo ad animarla Come abbiamo fatto prima sostanzialmente Quindi dal nulla la facciamo crescere Per poi ruotare e svelare il nostro testo Bene, posizioniamoci un po' avanti nella timeline Espandiamo chiaramente le proprietà del livello forma che abbiamo appena creato Diamo dei nomi che siano chiari per quello che noi stiamo facendo Il contenuto di questo livello ospita una forma Linea 01 Solo per essere chiari Il nome può essere qualunque nome voi vogliate Serve solo a voi per essere ordinati Mettiamola così Espandiamo la trasformazione La proprietà trasformazione dell'oggetto linea 01 Attenzione a questa cosa Quando noi lavoriamo sulla trasformazione nei livelli forma Dobbiamo stare attenti a quale trasformazione stiamo accedendo Ovviamente io ho già detto nelle lezioni precedenti Che ogni livello ha una proprietà trasformazione Queste proprietà sono proprietà legate all'intero livello All'intero livello che ospita una o più forme geometriche Quando creiamo però delle forme geometriche Ogni forma geometrica ha a sua volta una proprietà trasformazione Questo perché? Perché se creiamo più forme geometriche all'interno dello stesso livello forma Possiamo decidere di trasformare le singole forme geometriche In maniera separata Bene, noi accediamo alla trasformazione della linea 01 Che è la prima forma geometrica creata dentro al livello forma Su cui stiamo operando Seleziono la voce scala Sgancio, spengo l'opzione per mantenere le proporzioni Altezza e larghezza Perché chiaramente io voglio che questo oggetto Questa linea Venga modificata nella sua scala orizzontale Inserisco un keyframe E a questo punto della timeline Io voglio che questa linea sia lunga Come era di default Ok? Torno un pochettino indietro nel tempo Diminuisco la percentuale della larghezza orizzontale Portandola allo 0% E in questo modo vedrete che la forma geometrica In questo caso la linea Verrà praticamente creata dal nulla Esattamente quello che vogliamo Prima di farla ruotare però voglio rimpicciolirla un pochettino Ok? Perché voglio che mentre ruoti L'intera linea sia comunque all'interno della mia composizione Quindi una volta raggiunto il 100% Mi porto un pochettino più avanti Modifico sempre l'asse orizzontale Portandola per esempio al 12% Eccola qua Quindi l'animazione fino a questo punto è questa Olè! Bene, voglio anche ruotarla Una volta che si è allargata al suo massimo Voglio che nel tornare indietro ruoti di 90 gradi Quindi mi seleziono la voce rotazione Ok? Inserisco un keyframe E vado un pochettino avanti nel tempo E ruoto la linea di 90 gradi Ok? Questo è quello che accade sostanzialmente Fin qui Ok? Ovviamente dobbiamo sistemare il timing Possiamo chiaramente giocare con i tempi No? Abbiamo già detto Più i keyframe sono vicini Più la velocità è maggiore Più sono distanti Più la velocità è minore Ok Possiamo perdere un po' di tempo E vediamo di sistemare il timing di questo effetto Ruota troppo rapidamente Ok Per adesso facciamo finta che vada bene così Ok Più o meno Poi lo sistemeremo Non solo voglio che questa linea si espanda e ruoti Voglio anche che si sposti prima a destra per poi tornare a sinistra E mentre torna a sinistra io voglio che sveli il mio testo Ok? Quindi una volta che si è allargata e che inizia a ruotare A questo punto vado ad animare la posizione ovviamente Sempre nella trasformazione della linea 0-1 Quindi inserisco un keyframe alla voce della posizione Vado un po' avanti e a questo punto della mia animazione voglio che la linea Opla Sia completamente a destra Ok? Quindi questo è quello che accade Olè E poi torno indietro per andare completamente a sinistra E più tardi Mentre la spostiamo a sinistra Questa linea andrà a svelare il testo del mio sottopanzo Ok Questo è quello che accade In sintesi Ok Come dicevo prima Possiamo sistemare il timing Che in questo momento è sicuramente sbagliato Quindi la velocità con cui questa linea si rivolge a destra E poi torna indietro è sicuramente eccessiva Ok Prendeteci molto tempo Ma vi do un aiuto Se io seleziono tutti questi keyframe Ok? E premo il tasto di scelta rapida F9 Trasformo questi keyframe Nel modo in cui gestiscono l'interpolazione dei fotogrammi Mi spiego In questo momento il fotogramma chiave Fa in modo che appena inizia una trasformazione La trasformazione avvenga all'istante Ok? Di scatto All'improvviso Selezionando i keyframe e premendo F9 Cambia la forma del fotogramma Guardate F9 Questo cosa significa? Significa che ogni keyframe ammorbidisce la linea dell'animazione Guardate come adesso l'animazione è più morbida Ok? Prima di arrivare al fondo Rallenta Questo rende tutto leggermente più naturale Se volete Non vi preoccupate Ne riparleremo meglio Quando parleremo più avanti dei keyframe E andremo avanti Approfondendo il concetto dei keyframe E dei vari tipi di animazione Che possiamo creare Per il momento sappiate che selezionando i keyframe E premendo F9 Modifichiamo i keyframe In maniera tale che l'animazione sia più morbida Ok? Quindi ancora noi possiamo fare meglio Possiamo aggiustare il timing Ma per il momento facciamo finta che vada bene così È quello che io voglio creare sostanzialmente Ok? Non perdiamo troppo tempo Per il momento E adesso a questo punto Aggiungiamo il tanto atteso replicatore Selezioniamo la forma geometrica 1 Importante? Ecco, avevo aggiunto per errore una forma geometrica Più forme geometriche Lasciamo solo la forma geometrica che abbiamo creato Dicevo Selezioniamo la forma geometrica appena creata La linea 01 Clicchiamo sul bottone aggiungi E scegliamo la voce ripetitore Ok? Ah, una cosa importantissima Quando aggiungete il ripetitore Dovete assicurarvi di avere selezionato La linea 01 in questo caso Quindi la forma geometrica su cui volete aggiungere il ripetitore Altrimenti il ripetitore viene aggiunto a tutte le forme geometriche Nel caso esistano più forme geometriche E non è quello che vogliamo Quindi rifaccio Seleziono linea 01 Clicco sul bottoncino aggiungi Vado sul ripetitore Vedete che adesso il ripetitore è stato aggiunto all'interno della linea 01 Quindi della forma geometrica su cui sto lavorando Espando le proprietà E ipotizzo di volere 11 copie Vado a vedere e apparentemente non è accaduto nulla In realtà le copie sono state aggiunte ma in orizzontale Una attaccata all'altra Ed essendo una linea orizzontale L'effetto è che la linea viene prolungata verso destra Molto semplice correggere questa situazione Nel ripetitore Anche qui ho la proprietà Trasformazione questa volta Non dell'oggetto linea 01 ma del ripetitore Ecco perché vi dicevo fate molta attenzione Alle proprietà trasformazione Ogni cosa che create ne ha una propria E questa volta la posizione invece di aumentarla sull'asse orizzontale Ok? L'aumento sull'asse verticale Quindi posizione Prima era 100 0 Ora faccio 0 100 Guardate cosa accade Accade sostanzialmente che le nostre linee sono state aggiunte in verticale Ora 100 è un valore un po' troppo alto Lo diminuisco Ma ecco qua Vedete che le mie copie sono tutte qui Ok? Prima per farvi capire Erano in orizzontale Modificando questa proprietà Le vado ad aggiungere in verticale Ok? Però io voglio che la linea centrale Sia effettivamente al centro della mia composizione Come fare? Modifico la voce Scostamento Quindi se io ho creato 11 copie Do un valore di meno 6 E vedete che a questo punto La linea centrale è la linea che si trova al centro Non proprio Facciamo meno 7 Facciamo meno 5 Ok Meno 5 è il valore giusto Ecco molto spesso bisogna andare a tentativi Provare Quindi abbiamo 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4 e 5 La linea centrale è esattamente nel mezzo Chiaramente io posso sempre modificare il colore Di questa forma geometrica Quindi io la seleziono Vado sul bottoncino qui del riempimento del tratto E inserisco il colore che preferisco Per esempio questo verde acqua Ecco qua Questo è il risultato E chiaramente questa situazione viene replicata All'intera animazione Perché tutte le copie seguono Come abbiamo visto prima La copia originale Ora Diciamo che è un po' invadente Questo tratto Quindi probabilmente Quello che devo fare È andare a creare un tratto Un pochettino più sottile Invece di 3 pixel Scelgo 1 pixel di larghezza del tratto In questo modo È tutto un pochettino più morbido Se è troppo morbido Potete portare a 2 per esempio Giocate Fate le prove Come sempre Vedete Qual è il livello giusto Occhio a cliccare Con Lo strumento Con lo strumento Penna selezionato Altrimenti aggiungete nuove forme geometriche Come sto facendo io In questo caso Facciamo un po' di pulizia Ecco perché Consiglio sempre Di non fare come me E quando finite di disegnare Tornate sempre Con A selezionare lo strumento selezione Ok Dicevo Questo è quello che abbiamo creato Ok Se 11 copie Vi sembrano troppe Ovviamente potete ridurle Forse 11 copie Repliche sono troppe Possiamo Sempre andare nel ripetitore Da 11 passare Non so A 9 O a 7 7 va benissimo Modifichiamo a questo punto Lo scostamento Di conseguenza Ed ecco che Meno linee forse Ha un effetto migliore Ad ogni modo Questo è quello che stiamo creando Rivediamo dal principio Ok Fantastico È il momento di Ruotare Le nostre repliche Per fare in modo che Quando tutto sia finito Non ci siano delle linee orizzontali Ma le linee siano intrecciate Tra di loro Come fare? Semplice Molto semplice Sempre Nella proprietà Trasformazione Del ripetitore C'è ovviamente La proprietà Rotazione E io voglio Ovviamente Che questa proprietà Sia animata Quindi La animo Inserendo un keyframe E a questo punto Della mia animazione Voglio che la rotazione Sia di un grado Guardate cosa accade Vedete che Se io vado ad aumentare La rotazione No? Creo Un effetto Di torsione Se volete Tra le varie linee Quindi invece che Un grado Devo probabilmente Mettere meno Un grado Ecco qua Esatto Torno indietro Nel tempo Perché non voglio Che sia sempre così La mia linea Voglio che ci diventi Quindi a questo punto Della Dell'animazione Inserisco un secondo Fotogramma chiave E a questo punto Dell'animazione Però voglio che La torsione Sia a zero La rotazione Sia a zero In questo modo Cosa accade? Accade che In questo punto Della timeline Le nostre linee Sono praticamente Come potete vedere Unite Ok E successivamente Vengano Piegate A mano a mano Che si arriva Alla fine Dell'animazione Ok Spero che Fin qui Sia tutto chiaro Questo è quello Che abbiamo creato Fino ad ora Una semplice Animazione E adesso Arriva la parte Del testo In cui viene Svelato Il testo Oh Se volete Chiaramente Che Il punto centrale Il punto focale Di questo intreccio Di linee Sia Un po' più al centro Della verticale Di queste linee Quello che dovete fare È semplicemente Modificare Il punto di ancoraggio Ok Quindi modificando Il punto di ancoraggio Potete decidere Il punto in cui avviene La focale Di queste linee Ok Dicevo Animiamo adesso Un testo Inseriamo un testo E andiamo A svelarlo A mano a mano Che la nostra Linea Avanza E svela In questo modo Il sottopancia Quindi Control T Per attivare Lo strumento Testo Scriviamo un testo Qualsiasi Per esempio Nome E cognome Formattiamolo Come preferiamo Posizioniamolo Nel punto Desiderato Della nostra Composizione Quindi qui Può andare più che bene Ecco qui Quello che noi vogliamo adesso È che quando Questa linea Arrivi in prossimità Del testo Lo sveli Ok Come fare Utilizzeremo Una semplice Maschera Di livello Lo abbiamo imparato Nelle lezioni precedenti Quindi Selezioniamo Il livello testo Clicchiamo Sullo strumento Per aggiungere Una maschera Quadrata Disegniamola Effettivamente Questa maschera Quadrata Per disegnarla Posizioniamoci In questo punto In cui Tutto è stato Abbondantemente Svelato Ecco qua Questa è la nostra Bella maschera Di livello Tutto quello che All'interno di questa maschera Viene svelato Quello che è fuori Viene nascosto Ora noi animeremo Questa maschera Per fare in modo Che la linea Ormai Ormai sono diventate Le linee Quando passano Mostrino Il testo Nome e cognome Appena creato Quindi Noi dovremo animare Quello che è il tracciato Maschera Inseriamo Keyframe Andiamo un pochettino Indietro Nel tempo Modifichiamo Questa maschera Per Adattarla Per farla Combaciare Con la nostra Linea Appena creata E vedete Che Sistemiamo Di volta in volta La progressione Per farla Combaciare Il più possibile Con L'avanzamento Del nostro Oggettino Vedete che Quando arriva In prossimità Del testo Il testo Viene Svelato Perdete un po' Di tempo A fare In modo Che questi due Oggetti Siano Sincronizzati Ok Questo è quello che accade Rivediamo L'intera animazione Ok Come potete vedere La scritta Nome e cognome Viene mostrata Grazie all'animazione Che abbiamo fatto Sulla maschera Di livello Applicata Al testo Ok Vediamo Nella Nella Composizione Master Come avviene Il tutto E mandiamo In play Ok Chiaramente Noi questo Sottopancia Lo vogliamo Un pochettino Più in basso Rivediamo Con l'effetto Ok Per concludere Questa animazione Dopo Un po' Di secondi Verso la fine Della timeline Andiamo A inclinare Il tutto In maniera tale Che Vada via Vi faccio vedere Come Trasformo Entrambi Gli oggetti Entrambi I livelli In livelli 3D In questo modo Posso accedere A tutte e tre I vettori Della rotazione Modificando Il parametro Della rotazione Lungo l'asse Orizzontale Posso far Ruotare Questo testo Con le linee Alla sinistra In maniera tale Che poi Vadano A sparire Bene Inseriamo un po' Di keyframe Per cominciare Quindi vogliamo Che tutto sia così Fino Quasi verso la fine Della timeline Inserisco Un primo keyframe Un po' più avanti Ruoto tutto Di meno 90 gradi E questo è quello Che accade Ok Vado a rivedere Il tutto Nel nostro Nella nostra Composizione master E questa è l'animazione Questo è quello Che abbiamo creato Una semplice animazione Un semplice Sottopancia Utilizzando Forme geometriche Utilizzando Ovviamente I keyframe Utilizzando Appena Ma ci sono I livelli 3D Utilizzando Lo strumento Ripetitore Che abbiamo appreso In questo video tutorial Ovviamente questa è una dimostrazione È molto semplice Quello che abbiamo creato Si può fare meglio Certo Perdete del tempo A giocare Con le varie proprietà Che abbiamo visto Quest'oggi Provate Non so Creare una forma Geometrica Differente Create Non so Un'animazione Anche Diversa Da quella che ho appena Creato io Prendete confidenza Con questi strumenti E Imparate Ad utilizzare La vostra fantasia Per creare Ciò che volete Nel prossimo video tutorial Andremo avanti E tratteremo Altre tematiche Altri temi Altre tecniche Riguardanti Adobe After Effect Per il momento Vi ringrazio www.fabioambrosi.it Sito dove troverete L'articolo Anche scritto Di questo video tutorial Cercatemi Su Facebook La pagina È Fabio Ambrosi Mettete un like E se vi è piaciuto Questo video Chiaramente Iscrivetevi A questo canale YouTube Mettete un like E teniamoci in contatto Ciao Grazie Al prossimo video tutorial Ciao Ciao